Come tappa conclusiva del forum dello Shopping Tourism abbiamo presentato anche una serie di risultati del nostro monitor di ricerca. Ogni anno aggiorniamo dei numeri sulla domanda e sull'offerta di Shopping Tourism. Partiamo dall'offerta, un'offerta consistente in Italia con più di 26 outlet, il secondo paese in Europa dopo il Regno Unito, più di 60 department store che rappresentano altri luoghi dello shopping in centro città, ma molto ben organizzate sono anche le vie dello shopping e quindi strade dove insistono dei negozi che oramai sono rappresentati da loro associazioni che fanno attività, che fanno eventi, cercano appunto di coinvolgere i turisti, di attirarne la loro attenzione. Dopodiché il travel retail con grandi investimenti nelle stazioni, ad esempio quelle di Roma e quella di Milano o nei grandi aeroporti italiani, lì dove l'offerta commerciale è diventata molto più ricca e molto più articolata. Tutto questo, tutti questi luoghi dell'offerta unitamente a tutto un sistema complesso di servizi sono la condizione essenziale affinché la domanda di shopping tourist possa essere attirata in Italia. E proprio su questa domanda noi abbiamo fatto anche una nuova proiezione, ci eravamo fermati per così dire ad un numero comunque consistente di 2 milioni di shopping tourist attratti in Italia nel 2019, ebbene con tutta una serie di proiezioni e anche incrociando una serie di dati sulla capacità di spesa, sull'attenzione, sulla ripresa dei viaggi internazionali, possiamo dire che nel 2023 la stima di risposte turismo è di andare ben oltre i 2 milioni di shopping tourist attratti dall'Italia come destinazione. C'è un po' di tutto, c'è una crescita anche nella consapevolezza del turista, sempre più esigente, vuole fare appunto queste cosiddette attività e esperienze immersive e non solo limitarsi ad osservare o anche ad acquistare, cosa che comunque è alla base dello shopping tourism. Qui a Bologna abbiamo notato nella nostra indagine presso i negozi una grande consapevolezza dell'importanza e della rilevanza dello shopping tourism. Basti notare che circa il 40-42% del totale dei clienti dei negozi è rappresentato da turisti. Quindi anche qui è una destinazione che ha molte vocazioni, che sta crescendo costantemente dal punto di vista dell'attrazione turistica, lo shopping contribuisce anche in questa direzione.